Nel giovedì santo inizia con la messa in cena domini e fin qua è tutto normale perché anche in altre parti succede così. Poi dopo dalla messa in cena domini, i dodici apostoli, che sarebbero i dodici confratelli dei bianchi, della congrega dei bianchi, partono con una croce sulle spalle e coperti completamente dal sacco, dal cappuccio, fanno il giro di Procida. Delle varie chiese di Procida fino ad arrivare giù al porto, alla Barilla. Nelle chiese di Procida cantano il viadoro, viadoro Santa Croce, nel sepolcro, perché si usano ancora i sepolcri, che poi non è lo sepolcro, perché in effetti il sepolcro sarebbe un falso storico, perché si chiama luogo della riposizione, perché verrebbe riposto il Santissimo in vista del venerdì santo, perché il venerdì santo è l'unico giorno dell'anno in cui non avviene consagrazione. E allora questi sfilano per Procida ed è una situazione, è un'immagine molto suggestiva. Questi uomini incappucciati con la croce nera sulle spalle sfilano per le strade di Procida in assoluto silenzio. Cioè quello che colpisce in questo giorno e in questa fase è il silenzio che c'è attorno. Arrivano fino al crocefisso che sta sul posto, giù alla marina, si dispongono sei per lato della croce che sta, si sollevano il cappuccio e si mettono con le mani poggiate sui bracci laterali della croce e cantano l'inno al crocefisso. Il canto è una cerimonia di una suggestione enorme perché avviene di sera, specialmente queste sere primaverili. Il canto viene, è un canto diciamo anche fatto da gole piuttosto rozze, di uomini di fatica, una volta ancora di più, oggi è di meno, ma questo canto si sprigiona e va verso il mare. Per cui tanto per dire, anche le navi che attraccano lo sentono nell'aria perché rimbalza sulle pareti delle case e arriva sul mare. Quindi questo è veramente il giovedì santo. Una volta però non era così, era forse chi dice che era più bello, chi dice che era meno bello. Il giovedì santo iniziava la mattina e praticamente la messa in cena a dormini si faceva la mattina, non la sera come adesso. E questo è un falso storico. Dal 58 poi, con Pio XII, cambiarono le abitudini e praticamente la messa si fa la sera. Quindi tutto si è spostato verso la notte, diciamo così.